Nonostante un generalizzato rispetto nel terramano delle vigenti disposizioni per l'area rossa in vigore fino a ieri nella nostra regione, non è mancato ancora una volta tra i più giovani il disinteresse per la prevenzione del covid-19. Infatti nella serata di ieri alla sala operativa della questura di Teramo è arrivata la segnalazione di un solerte cittadino che ha segnalato la presenza di vari ragazzi all'interno di un appartamento attualmente non abitato nel centro di Teramo. Giunti sul posto i poliziotti hanno avuto modo di riscontrare la presenza di otto giovani tutti minorenni di età fra i 16 e i 17 anni che in grande allegria e privi di qualsiasi forma di prevenzione quale l'uso della mascherina stavano ripulendo l'abitazione per poterla utilizzare nella serata di Capodanno. In ambito provinciale poi sono state sanzionate dalla polizia di stato sei persone perché immotivatamente lasciavano la propria abitazione. Curiosa la giustificazione di due possessori di cani che con gli stessi si erano recati da Tortoreto ad Alba Adriatica che benché confinanti costituiscono comunque comuni diversi e altre due persone che hanno riferito agli agenti di doversi recare presso un noto negozio di materiale informatico ignorando evidentemente che lo stesso ieri era regolarmente chiuso.